Adesso, 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 passiamo a un'altra categoria, cosa c'è? Cosa ho fatto? Ma questa non è una categoria? No, è. Il personaggio che sta per arrivare non è una categoria. Ah, ho sbagliato, vuoi dire? È fuori categoria. No, 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 sì, è decisamente fuori serie. Tu che ne intendi di automobili? È un turbo, un doppio turbo. Un quattro ruote motrici? Un quattro ruote motrici, è tutto, è un poliedrico, ma soprattutto è uno che ha tenuto e tiene ancora oggi, come si usava a dire ai vecchi tempi delle varietà, la bangeria italiana che garrisce all'estero. Hai capito? È forte questa quella. È bella questa quella. È una bella presentazione, ma per chi è? Ma com'è perché? Solo uno lo fa in Italia, è lui, Domenico Modugno. Domenico Modugno! Ciao. E anche per Domenico Modugno ho una carriera che ha visto di tutto. Sceneggiati TV, ti abbiamo ammirato, io ti ammiravo moltissimo nei sceneggiati, oltre che come cantante, soprattutto. Grazie. E adesso come presentatore, abbiamo un altro presentatore, abbiamo un ottimo presentatore della Luna del Pozzo. Senti, questa tua nuova esperienza, che emozioni ti ha dato? Beh, tante, perché come cantante, insomma, un mestiere lo conosco, ma come presentatore è stato veramente un fatto... Infatti anche adesso non so parlare, non so trovare le parole. Senti, però questa sera noi non ti vogliamo come presentatore, noi ti vogliamo anche come cantante. Sì, adesso canteremo una canzone, la dedico a lei. A Isabella. Sì, a Isabella. Isabella e Matti. Tu dove vuoi venire? La tua trasmissione. Come? Nella Luna del Pozzo. Vuoi venire a vedere la Luna del Pozzo? Allora io ti dedico la canzone, va bene? Va bene. Eh? E anche a voi, naturalmente. Andiamo. Grazie. Grazie. Quest'amore così bello, quest'amore così folle, così dolce e delicato, quest'amore sconfinato, che non vuole rassegnarsi, che continua a tormentarsi, tra una pena ed un sorriso, tra l'inferno e il paradiso. Quest'amore maledetto, quest'amore benedetto, quante lacrime versate, quante grida soffocate, quante amare, delusioni in un mare, di passioni, quest'amore. Quest'amore così grande, questa cosa allucinante, questa furia che trascina l'acqua barca in fondo al mare, ed è bello naufragare. E' un dolcissimo morire, è il veneno più sottile, che guarisce da ogni male. Quest'amore, questo amore traditore, senza orgoglio e senza onore, questa forza sovrumana nelle mani di un bambino, che ti rende un burattino, che obbedisce al tuo signore, all'amore. Questo amore traditore, senza orgoglio e senza onore, questa forza sovrumana nelle mani di un bambino, che ti rende un burattino, che ti rende un burattino, e obbedisce al tuo signore, all'amore. All'amore, all'amore, all'amore. Non scappare, non scappare. Ecco, un tirone nel filo. Allora, questo premio per, dov'è questa bellissima canzone? Questo premio per Domenico Modugno, che bisogna dirlo. Sì, certo, la luna del pozzo, ma è un premio che va a tutta la tua carriera, tutte le cose belle che ci hai dato in questi anni, e che ci darai nei prossimi anni, comprese le tue canzoni. Grazie, grazie a tutti. E buona attesa. Grazie.